Per stare tranquilla all'opinione pubblica, qui praticamente la flora, o meglio la fauna ittica non esiste più, l'ultimo storione è stato avvistato da un ragazzo che abita lì dice di essere l'erede di Vittorio Alfieri, lo dice lui, questo non c'entra con quello che lui sta asserendo, lui ha detto che ha visto un luccio ieri sera, l'ultimo che è stato avvistato era nel 1938, periodo del fascismo per cui tanta gente non diceva niente ma li vedevano, cosa è successo? Non vorrei che l'IBM qua avanti ha buttato dentro 5-6 pupazzi meccanici che sembrano luci perché sai che fanno tante robe miniature, ma il luccio è estinto, a questo punto a noi che sia estinto o che ci sia ancora non ci interessa perché più di questo non possiamo fare.